Allora, buongiorno a tutti, grazie per la presentazione e sono felice di vedere tante ragazze qua e ben presto capirete perché. Allora, parliamo di moda, lusso, design. Allora, in due parole, che cosa c'è dietro queste parole e perché queste aziende, queste industrie hanno davvero bisogno di voi? Perché hanno bisogno di voi. Partiamo dalla moda. Allora, il mondo della moda italiano è roba nostra, è qua, lo conoscete, ci siete cresciuti in mezzo, i marchi sono quelli che sono entrati da tempo nelle vostre case. Io sono nata nel 1960, quindi in un'epoca in cui i marchi non esistevano, le scarpe da ginnastica erano scarpe, le mutande erano mutande. Oggi, se penso a quello che ho addosso, non c'è un elemento, non c'è un oggetto, non c'è quasi nemmeno gli occhiali che non abbiano un marchio dietro. La rivoluzione è stata pazzesca, è una rivoluzione italiana, creata dagli italiani tra gli anni 70 e i primi anni 80, è la rivoluzione del pret-à-porter. Cosa vuol dire? Gli italiani sono riusciti a esprimere quel connubio tra creatività e produzione industriale che è davvero una cosa che noi sappiamo fare meglio di tutti gli altri. Con il boom, la rivoluzione economica, il crescere dei consumi e quindi la maggiore ricchezza degli italiani, è cresciuta una moda che sapesse vestirci, rivestirci al meglio. Ma cosa sta succedendo adesso? Vi ho detto che la moda italiana è nata a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80. Attraversiamo adesso un momento molto, molto delicato, siamo molto fragili in questo momento, perché i grandi marchi italiani si avvicinano al passaggio generazionale. Il passaggio generazionale nelle aziende di moda è molto particolare, perché le aziende della moda sono cresciute benissimo nel mondo, modellate ognuna in modo diverso sulla figura del creatore, dello stilista, del designer che le ha fondate e che dà il nome al marchio. Il mondo della moda è un mondo fluido, spesso questi creatori non hanno figli e quello che adesso sta succedendo è che tutti si stanno interrogando su che cosa succederà. Pensate ai primi quattro big della moda italiana. Armani, Armani non ha figli, ha creato un meccanismo, io non sono esperta di meccanismi finanziari, ma si dice che abbia creato un meccanismo di fondazione che dovrebbe mettere in sicurezza l'azienda, però vi assicuro che il passaggio non sarà passaggio da poco. Per i manager italiani e non solo italiani, fino ad oggi lavorare accanto a questi signori è stata una sfida anche molto frustrante, perché immaginatevi di essere accanto a un padrone, che è anche il creatore, che è un supervisionario e che la ragiona in modo creativo, quindi sicuramente non seguendo i flussi di lavoro manageriali. Allora, questa cosa ha tenuto bene fino ad oggi, ma nel momento in cui si sta avvicinando il momento del passaggio, veramente hanno bisogno di voi, hanno bisogno di una nuova classe di manager, molto competenti su questi mondi, che sono meravigliosi, davvero profumano di glamour e ce l'hanno, ma sono anche molto molto competitivi, perché la competizione è nel mondo. Allora, abbiamo detto Armani, non ha figli. Versace, appena venduto, Donatella Versace, l'anno scorso ha venduto al gruppo americano di Michael Kors. Dolce Gabbana è ancora nelle loro mani, ma non hanno figli, non hanno eredi. L'altro grande gruppo è il gruppo Prada, Miuccia Prada e Maurizio Bertelli hanno due figli, che ora lavorano all'interno della comunicazione, ma è un gruppo enorme. Le aziende italiane davvero sono in un momento in cui il passaggio è cruciale, perché o vendono, e se vendono, ahimè, è un peccato per tutti noi, perché non essere più padroni in casa propria è brutto sempre, quindi la scelta è o vendere ai grandi gruppi, oppure stancamente continuare e sapere che però il tuo compito va a esaurirsi. Quindi davvero io penso che mai come in questo momento creare una nuova leva di manager che sappiano perfettamente che cos'è il mondo della moda, che lo conoscano, perché vedete, la passione serve tanto in questi prodotti, perché sono inutili, sono meravigliosamente inutili e superflui. Quindi per creare davvero il bisogno bisogna stare molto anche sul prodotto. Quindi serve davvero non solo la competenza tecnica che sicuramente il master vi darà, ma davvero anche una conoscenza istintiva di pancia del prodotto. Il mondo del lusso è un po' un'altra cosa. Il lusso in generale è un concetto francese, il lusso è un concetto di oggetti esclusivi creati su misura per il re e la sua cerchia, quindi nasce in Francia, nelle corti francesi. È un concetto non familiarissimo per noi italiani, che siamo più bravi nell'alto di gamma, ma le aziende del lusso sono fortissime. Nel mondo sono tre. Uno è il gruppo LVMash, il signor Bernard Arnault, che conoscete bene. L'altro è il gruppo Kering, il signor Pinot. E poi c'è il gruppo Richemont. Nel primo gruppo ci stanno Vuitton, Dior, ma ci sta anche tutto il mondo degli champagne. Tutti gli champagne del mondo, più o meno, sono del gruppo LVMash. Nel gruppo Kering ci sta Gucci, ci sta Yves Saint Laurent e poi tanta altra roba. Il terzo enorme gruppo del lusso, un po' meno conosciuto forse da voi, il proprietario è il signor Rupert, che forse non vi dice granché, però è il gruppo Richemont, è quello di tutta l'alta gioielleria e l'alta orologeria. Lì dentro ci sta Da Cartier a Van Cleef, Da Piaget a Mont Blanc a Beaumersier. Che cos'hanno di bello questi tre grandi gruppi del lusso? Sono molto molto strutturati. Sono delle palestre straordinarie per chi voglia fare un percorso manageriale, perché sono i più internazionali del mondo, sono molto ben strutturati, hanno delle politiche, anche per quanto riguarda le carriere dei giovani che inseriscono, davvero abbastanza impagabili. Chi entra in questi grandi gruppi sarà che sarà sotto davvero una lente di ingrandimento degli HR, che lo seguono in modo molto preciso e molto strutturato. sa che avrà la possibilità di passare da un marchio all'altro, perché lo fanno, e quindi davvero la formazione che vi può dare un master per accedere a un comparto di queste dimensioni è importante. Di questo settore del lusso fa parte anche il gruppo L'Oreal, che fa da Vichy a Garnier a Lancome, ai profumi di Armani, un'altra grande palestra di formazione. Fino a poco tempo fa il gruppo L'Oreal era sempre il numero uno nelle aziende più cercate dai ragazzi. Adesso è in un momento complicato, perché il mondo della bellezza sente molto fortemente l'arrivo dei nuovi brand, dei brand che nascono online, dell'uso degli influencer, dei piccoli marchi di nicchia che da soli riescono a farsi conoscere e arrivare a voi, che siete consumatori nuovi da catturare. Però comunque questo comparto della bellezza è ancora straordinariamente interessante. Rispetto agli altri ha alle spalle tutto il mondo della ricerca scientifica, della ricerca sui prodotti, molta chimica. E se uno ha interessi un pochino più scientifici, mi sento di dire che è un comparto bellissimo. E poi c'è il design. Ancora una volta, roba nostra, è qua, è in Brianza, è nato qua. Erano tutti i piccoli mobilieri della Brianza che nel dopoguerra hanno iniziato a seguire le richieste di un mondo, l'Italia che veniva ricostruita, hanno iniziato a fare i mobili in stile, Cipend e Lobby Dermeyer a seconda di quello che il mercato chiedeva. E poi sono andati avanti. È entrata la seconda generazione, che è quella che poi ha portato i grandi architetti a lavorare sul design. E adesso stanno entrando le terze generazioni. Qui è ancora una situazione un po' diversa. I figli dei fondatori sono all'interno dell'azienda, stanno passando le consegne ai figli. Sono aziende molto, molto familiari. Ma in questo essere aziende familiari sono aziende strutturatissime. Davvero hanno alle spalle una capacità di produrre che è meravigliosa. Mi è capitato di fare spesso il giro nelle aziende del design italiano e sono dei gioielli dove l'industriale ti parla ancora in dialetto brianzolo, ma poi vedi che le commesse vanno in tutto il mondo. Perché quello che accomuna tutti questi comparti, la moda, il lusso e il design, è proprio l'internazionalizzazione. Internazionale è un prerequisito fondamentale. Queste sono aziende che pensano sempre meno al mercato italiano, ma che hanno il mondo come sfida. E quindi hanno molto bisogno, per la loro crescita, ancora una volta, di una leva di manager che sappiano capire la specificità di ogni prodotto. Perché un mobile di Molteni è diverso da un mobile di Poliform, che è diverso da un divano di Minotti. E queste differenze, bisogna che chi lavora in questi settori, non solo le sappia cogliere al volo, ma le sappia anche preservare, perché ovviamente è il segreto di ogni grande brand. Però c'è un enorme bisogno anche lì, perché le sfide del futuro lì sono, per tutti questi settori, inseguire i milionari del mondo, che sono tanti. Oggi sono soprattutto in Cina, domani chi lo sa, ma ogni volta che entrano nel mercato nuovi milionari, le aziende italiane e le aziende del lusso, ovviamente, sono lì per loro. Milano, in tutto ciò, è ancora una città, è un luogo speciale per chi vuole fare questi lavori, posto che abbia questa visione internazionale. Quindi l'inglese è un prerequisito essenziale. Se siete ancora un po' deboli, mi raccomando, mettetelo a posto, perché è molto probabile che il colloquio di assunzione ve lo facciano addirittura in inglese. Quindi siate pronti, perché lì non si sgarra mettendo la crocetta. Questo è veramente un requisito fondamentale. Infine, una parola sulle donne, sulle ragazze. Ahimè, sono una suffragetta e sono nata così, ho sempre avuto una grande passione per i temi femminili. L'ingresso delle donne nel mondo del lavoro molto più velocemente sta subendo una bella accelerazione. Non è tutto così facile. Voi avete la fortuna di uscire da un ambiente fortemente meritocratico, che è l'università. Lì sei bravo, prendi un bel voto e non c'è storia. Il mondo del lavoro è un po' diverso, ma non vi voglio spaventare. Avrete sicuramente tutti i requisiti per farcela. Vi posso solo dire che davvero, difficilmente si trovano ambienti come quelli della moda, del lusso e del design, in cui essere donna è un vantaggio. Perché è un vantaggio? Perché si fanno prodotti che al 90% sono prodotti per le donne. Voi sapete riconoscere uno stiletto rispetto a una merigiene, probabilmente un manager uomo, un pochino meno. Sono campi nei quali davvero il genere è fluido da sempre e quindi c'è davvero molta diversity, senza nessun pregiudizio. Anzi, sono le aziende che più di tutte nel mondo hanno cavalcato l'inclusione, la diversità e l'hanno supportata. Quindi mi sento di rire, rispetto ad altri, in quanto ragazze, in quanto donne, siete non solo chi lavora sul prodotto, ma anche la consumatrice finale. E questo vi assicuro, detto da una che lavora in un giornale femminile, è veramente un vantaggio impagabile. Quindi forza ragazze, ma forza anche naturalmente a tutti gli altri. Studiate perché davvero le sfide sono tante. Non vi ho parlato della sfida di cui tutti vi parlano, che naturalmente è quella dell'integrazione del digitale, dell'e-commerce e del retail, ma questi sono tutti aspetti che naturalmente imparerete nel corso del vostro master. In bocca al lupo a tutte e a tutti. Grazie.